Il fiume Testene e il progetto Arca rappresentano una realtà faunistica con più di 40 specie di uccelli. Il parco fluviare di Agropoli, inoltre, ospita la Lontra, battezzata la regina dei fiumi cilentani, ma anche anatre, rettili e così via. L'Arca è stata costruita con il contributo dei concittadini di Agropoli e dell'ambientalista Gerardo Scotti. È il dove gli animali entrano volontariamente e dove trovano riparo di sera. Tra le diverse iniziative dell'associazione vi è stata quella di creare un giardino pensile sul muro. Alcuni fiori sono stati donati dal sindaco Adamo Coppola e da altri cittadini. L'Arca del Testene, inoltre, è un ottimo attrattore per le famiglie e simbolo di aggregazione. Purtroppo però non mancano episodi spiacevoli. Lo apprendiamo da un post pubblicato dall'attivista Gerardo Scotti sul suo profilo Facebook. Ci siamo resi conto solo ora che ieri si sono introdotti nell'Arca e hanno rubato diversi pulcini di Germani. La delusione è tanta. Non iniziate a fare domande tipo le telecamere. Noi come associazione ci stiamo mettendo tutto il possibile. Un sistema di videosorveglianza efficace costa e noi non abbiamo né i fondi né le autorizzazioni. E non abbiamo fondi nemmeno per mantenere attive le nostre fototrappole. Cerchiamo di andare avanti. Il sindaco dice che ai primi di settembre ci darà quello che serve per portare avanti il progetto e che la Madonna delle Grazie ci dia una mano. Il Testene è diventato un punto di ritrovo importante per tantissimi bambini ma non solo. Anche per adulti e anziani. Per tale ragione è stata realizzata una panchina per poter permettere a tutti di trascorrere qualche ora di serenità, ammirando le bellezze che la natura offre, senza chiedere nulla, in cambio, se non rispetto e cura.